Sono 59.592 gli elettori gelesi chiamati al voto per il referendum costituzionale di domenica 4 dicembre, 28.851 uomini e 31.101 donne. Sono invece 609 i neomaggiorenni che domenica prossima saranno chiamati alle urne per la prima volta. In città saranno 71 le sezioni più due speciali, l'ospedale Vittorio Emanuele ed il carcere di Contrada Balate. I gelesi all'estero che potranno votare sono 6.036, di cui 3.335 uomini e 2.700 donne. I seggi saranno restiti dal sabato alle 16. Si potrà votare dalle 7 alle 23 di domenica. L'ufficio elettorale del Comune di Gela, retto da Nando in Cardona, è aperto tutti i giorni per chi dovrà ritirare le schede elettorali o rinnovare la tessera. Il testo del quesito recita approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicaperalismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016. Ma entriamo nel dettaglio, parliamo del superamento del bicameralismo paritario. Il nostro Parlamento ha due rami, Camera dei Deputati e Senato, con gli stessi compiti, fare leggi, concedere e revocare la fiducia al Governo. Ogni legge deve essere discussa e approvata da entrambe le Camere. La riforma prevede la diversificazione delle funzioni alla Camera, quelle legislativa e fiduciaria. Il nuovo Senato rappresenterebbe Regioni e Comuni. Riduzione del numero di parlamentari. Il nuovo Senato sarebbe composto da 100 membri, tra sindaci 21, consiglieri regionali 74, scelti secondo una legge elettorale da approvare se vincesse il Sì e senatori a vita 5. Quindi il numero di parlamentari passerebbe da 945 a 730. Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni. I nuovi senatori, con un mandato pari alla durata dell'istituzione territoriale di cui fanno parte, non percepirebbero lo stipendio da parlamentari, ma solo quello da amministratori. Soppressione del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che si occupa di proporre pareri e travolta leggi sui temi quali economia e lavoro. È previsto dalla Costituzione, quindi solo attraverso un referendum costituzionale può rimuoverlo. Parliamo dell'articolo quinto della parte seconda della Costituzione, che è dedicato agli enti territoriali, vale a dire comuni, province, città e regioni. Revisione dell'articolo quinto della parte seconda della Costituzione, che è dedicato agli enti territoriali, vale a dire comuni, province, città e regioni. Si è tentato di modificarlo già nel referendum del 2001. Ora si rimette mano per definire quali competenze siano dello Stato e quali delle regioni, con una clausola di supremazia del primo rispetto alle seconde. Grazie. 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 Grazie.